Il Tribunale dell'esame di Palermo ha scarcerato per carenza di gravi indizi di colpevolezza e ha restituito la libertà personale ad Angelo Carità, 58 anni di ricata, imprenditore agricolo e Angelo Bianchi, 37 anni operaio e dipendente di Carità, arrestati lo scorso 20 maggio perché accusati di sequestro di persona, omicidio aggravato e occultamento di cadavere in riferimento alla presunta morte dell'imprenditore agricolo di ricata Giovanni Brunetto del quale non viene più nessuna traccia dallo scorso 7 maggio. Accolte le istanze dei difensori, gli avvocati Nino Gazziano, Calogio Romeli e Graci di Licata e Daniele Camilleri. Le ragioni dell'accoglimento delle richieste sarebbero da individuare non tanto nella valutazione del merito delle accuse, bensì per un fatto procedurale, dato che i due arrestati nella prima fase delle indagini sono stati interrogati dai pubblici ministeri senza l'ausilio degli avvocati difensori. Per la cronaca va detto che i due licatesi sono accusati dell'omicidio di Giovanni Brunetto, 56 anni. I due sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP del Tribunale di Agrigento Ottavio Mosti, dopo che la procura, segnatamente procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il sostituto procuratore Luca Scerretta, avevano con il proprio provvedimento disposto il fermo di polizia giudiziaria per i due. Per i giudici Giovanni Brunetto non è sparito volontariamente o accidentalmente, ma sarebbe stato ucciso e fatto sparire per togliere ogni traccia. A decretarne la morte, secondo gli elementi raccolti, sarebbero stati Angelo Carità, collaborato dal suo dipendente Angelo Bianchi per ragioni economiche. Pare infatti che la vittima da mesi tentava di farsi restituire da Carità una somma considerevole, circa 50.000 euro, senza però riuscirvi.